sul lago di garda a gardone nella villa storica museo di lui il sommo poeta e in compagnia di gabriele d'annunzio oggi visiteremo per voi il famosissimo vittoriale il vittoriale è una fondazione oggi aperta al pubblico ogni anno da qui passano più di 180 mila visitatori il vittoriale è una fondazione oggi continuiamo la visita sulla prua del torpediniere puglia regalato dalla regia marina militare italiana a gabriele d'annunzio e dal punto più alto dove si erge il mausoleo e dove riposa il sommo vate concludiamo il nostro giro per il vittoriale e dopo aver percorso in lungo e largo il vittoriale è tutto il grande parco per tg beach andrea evans grazie a tutti